Ecco, entrate in campo delle due squadre, ottava giornata, gara di recupero tra Sport Team Ortona e Virtus Castelfrentano, valevole per l'ottava giornata, recupero, girone unico chiedi, ecco la formazione, ecco i nostri ragazzi, ecco che si salutano, ragazzi, in bocca al lupo ragazzi, bravo, in bocca al lupo, forza ragazzi, andate a salutare, dove sta la panchina? No, non c'è nessuno, no, non c'è nessuno, ah, stanno là, ok, salutate, ecco, forza, in bocca al lupo ragazzi, Ecco il nostro mister Gabriele di Felice e la panchina. Ecco la panchina. Abba, che c'è? Non c'è nulla? Abbagato. Abbagato. Grazie.